bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi la vostra dose di news per quello che riguarda fortnite nel video di oggi infatti parleremo di alcune cose che stanno accadendo purtroppo per gli utenti di mac quindi problemi di nuovo per tutta la vicenda apple ed epi games parleremo anche però di un messaggio che ha mandato trump vedremo le cose del compleanno e tanto tanto altro prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è proprio la schermata di salva il mondo è sì ragazzi perché purtroppo arriva una notizia ufficiale direttamente dal tweet di epi games apple is preventing gas form distribution games of mac purtroppo ragazzi della leggo in italiano perché è anche presente nel sito ufficiale di fortnite apple impedisce epic di ferma di firmare elettronicamente giochi e patch distribuiti su mac apple impedisce epic di firmare giochi e patch e patch distribuiti su mac rendendo impossibile continuare a sviluppare e offrire fortnite salva il mondo su questa piattaforma nello specifico l'imminente release la 14.20 provoca bug ed errori tali nella versione 13 e 40 da compromettere l'esperienza di gioco non potendo firmare elettronicamente aggiornamenti e correzioni per questi problemi fortnite salva il mondo cesserà di essere disponibile per mac os a partire dal 23 settembre 2020 stiamo rimborsando tutti i giocatori che hanno acquistato qualsiasi pacchetto fondatore o iniziale di salva il mondo inclusi potenziamenti e hanno giocato a salva il mondo su mac tra il 17 settembre 2019 e il 17 settembre 2020 inoltre rimborseremo anche tutti i v-bacs acquistati e poi spesi per i lama durante questo periodo a partire da oggi 17 settembre i pacchetti iniziali per salva il mondo non saranno più disponibili purtroppo ragazzi di nuovo la vicenda di apple non permette di continuare lo sviluppo come sapete il 28 settembre arriverà la sentenza finale che dirà se fortnite potrà tornare sui dispositivi apple ma a quanto pare con questi aggiornamenti di salva il mondo probabilmente la via sarà una sola e quindi arrivederci a fortnite per tutti i giocatori da ios e adesso arrivederci a salva il mondo per tutti i giocatori da mac e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché è stato decriptato ieri nelle ultime ore del pomeriggio il nuovo ballo anche questo dedicato a tik tok sembrerebbe si balla il rolli dub o french not include abbiamo ragazzi ovviamente l'animazione in game scusatemi non posso farvi sentire l'audio per ovviamente copyright ma vi faccio vedere ragazzi il balletto quindi è molto probabile che oggi lo troviate nello shop come sapete questo video è stato registrato prima dell'arrivo del negozio come vedete il balletto è davvero molto molto carino e perché no quasi quasi ve lo sparo di prepotenza anche io sul mio canale tik tok chi lo sa chi lo sa chi lo sa comunque molto molto bello anche questo balletto andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché sono invece arrivati un sacco di bug fix che verranno affrontati nella patch 14.20 che sta per arrivare e nel futuro di fortnite tra cui ce n'è uno che mi è particolarmente che mi ha particolarmente colpito il primo a destra nintendo switch marvel knockout ltm on nintendo switch adesso io non so se abbiano deciso di toglierla da pc e da console per metterla su nintendo switch come sapete noi stiamo giocando adesso la nuova modalità marvel ma abbiamo anche degli altri bug che verrebbero fixati quindi non viene rimossa l'erba in alcuni casi quando si appoggia un oggetto ad esempio una piattaforma o una piramide il grande problema dei marker nella mappa quindi quando mettiamo un segnalino nella mappa il personaggio smette di muoversi e questo è veramente una cosa molto fastidiosa ma ci sono anche dei crash mentre si cerca di loggare su salva al mondo quindi ragazzi tantissimi bug che verranno fixati non sappiamo ovviamente quando uscirà la patch 14.20 o la 14.30 stiamo un attimo a cercare di capirlo ma tanta roba verrà fixata e quindi l'esperienza di gioco migliorata e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi come vedete è un'immagine che ovviamente non è di fortnite ma ci riallacciamo al discorso rocket league che vi ricordo verrà reso gratuitamente disponibile il 24 settembre nello store di epic games quindi non perdete l'occasione di scaricarlo gratuitamente attualmente costa 20 euro quindi un bellissimo regalo perché vi parlo di rocket league oggi perché c'è una cosa che è stata scoperta se nella vostra lista di amici di fortnite ne avete più di 800 molto probabilmente non vi farà aprire rocket league oppure ve lo farà aprire ma continuerà a crashare non si capisce bene il perché di questa cosa ma se avete per caso degli amici inattivi o se la vostra lista è troppo lunga potete considerare il fatto di alleggerirla un pochettino in modo da non avere poi problemi se decidete di scaricare rocket league andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché c'è una roba tanto incredibile quanto divertente che si può fare direttamente nella mappa con un mix un po particolare come vedete c'è il signor iron man e non è lì per caso voglio farvi vedere lo spezzone video tutto quello che dovete fare ragazzi è avere i vostri guanti di iron man mangiate un marroncino mangiate due pesci peperini o uno va benissimo e una volta che vi librate in aria e pigliate il pad il vostro personaggio schizza prepotentemente come potete vedere in giro per la mappa questo è un ottimo modo assolutamente per defilarsi dalle situazioni peggiori è ovviamente un bug che si può fare ma che probabilmente verrà risolto prestissimo quindi provateci magari ci fate su un paio di montaggi perché è davvero divertente e non parlare dell'ultimo argomento di oggi parla ovviamente del compleanno di fortnite vi ricordo che secondo quanto i leakers dicono quest'anno il compleanno si festeggerà il 26 settembre il che ci fa pensare che con la pace di settimana prossima potremmo già vedere delle informazioni aggiuntive quello che voglio dirvi ragazzi è che il la nuova copertura come vedete la wrap che vediamo in queste due varianti con gli zuccherini o semplicemente con la glassa non è nella colorazione originale quella che è stata fatta vedere fino adesso è semplicemente un progetto nonostante sia già inserita nei file di gioco ma quasi certamente i colori saranno diversi insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate i live su twitch dalle 8 ciao